Continuando il discorso abbiamo contattato il sindaco di VON, Maurizio Bevilacqua, per avere la sua opinione. Io credo che è molto importante di avere un piano d'azione, una struttura per il futuro, il post-Covid. Abbiamo bisogno di più dettagli, comunque io credo che lo scopo di questo programma è proprio di dire ai residenti dell'Ontario che c'è un piano per la ripresa economica della nostra provincia. Io credo che sia molto importante avere almeno dei principi di come agire nei prossimi 3-4 mesi. Comunque io dico sempre che il Covid-19 è una maratona, non è uno sprint. Ci vuole molta pazienza e di essere sicuri che il mondo dopo post-Covid non sarà come quello che noi del passato. Assolutamente no. Bisogna avere anche un po' di coraggio, di avere un po' di fede e di usare la nostra intelligenza e un buon senso per la ripresa. Le ditte devono cambiare la maniera in cui loro lavorano e producono e gli individui, i cittadini devono anche essere consapevoli dei rischi. Però ovviamente bisogna riaprirla, riaprirla in una maniera che comunque ci dà ancora sicurezza a noi. Però c'è la sicurezza della sanità e della salute dell'individuo. Però in questo mondo bisogna anche avere la sicurezza finanziaria ed economica. E questo è sempre il domande di battito. Aprire e non aprire. Chiudere e aprire. Non è una scelta facile. Comunque avere almeno un piano di azione credo che sia un'ottima idea.